Tra i tanti progetti lanciati qui a Bologna in occasione del 19esimo congresso nazionale della Fadoi c'è un progetto molto interessante incentrato sulla gestione della sepsi in medicina interna. Ne parliamo con il dottor Antonio Mazzone, Pass Presidente della Fadoi e delegato per i contatti con il ministero e con le società scientifiche. Prima di parlare del progetto, dottor Mazzone ci di una definizione della sepsi per piacere. La sepsi è una infezione sistemica ed è una patologia assolutamente in crescita che è data da molteplici fattori. Questa infezione sistemica è una delle cause principali di arrivo al pronto soccorso in codice giallo, codice rosso, ha una incidenza che è notevolmente in incremento e aumentata notevolmente al punto di raggiungere, come vedrete abbiamo osservato nel nostro studio, che è uno studio di incidenza di sepsi in medicina interna, al 2,32% dei pazienti ricoverati. Se noi consideriamo che il reparto di medicina sono il primo reparto del ricovero, cioè sono naturalmente, ricoverano più di 1 milione e 200 mila persone, capite come la sepsi col 2,3% da 20 mila casi in anno e la sepsi è una patologia che deve essere aggredita immediatamente, deve eseguire immediatamente tutti i test come l'emocultura e la sommestrazione dell'antibiotico, che sono due procedure che salvano la vita. Tommazzone, perché c'è questo aumento di sepsi? Si conoscono le cause? Uno, perché è migliorata notevolmente la capacità diagnostica. Due, perché è migliorata non solo la capacità diagnostica, ma anche la sensibilità. La lotta alla sepsi è una delle strategie che stanno utilizzando, sia in America, sia in Italia, per cercare di diagnosticare immediatamente, perché la diagnosi immediata porta a salvare la vita. Perché, non lo dobbiamo dimenticare, la sepsi può dare molto spesso un esito in fausto. Allora, parliamo del vostro studio che si chiama Snoopy, che cos'è, come è stato realizzato? Lo studio è uno studio che ha visto coinvolti 40 giovani medici, che sono 40 giovani internisti fadoi, che provengono da 14 regioni italiane e lavorano in 38 ospedali. Questi, nella loro tesi di master di secondo livello, che è organizzato con l'Istituto Superiore di Sanità e con l'Università Liuc di Castellanza, hanno fatto uno studio prospettico sull'incidenza delle sepsi per una valutazione sia da punto di vista clinico sia da punto di vista economico. Lo studio ha incluso più di 900 casi, dove 535 casi di sepsi, dove è dimostrata con le culture, con l'emocultura, la positività, il tipo di infezione, il tipo di batteri, il numero di resistenze, gli antibiotici utilizzati. È il primo studio italiano che affronta in maniera organica questo tipo di argomento. Dai dati dello studio emerge proprio come la sepsi ha un'incidenza del 2,32%, come nella sepsi c'è una mortalità, soprattutto nello shock esettico, di circa il 30% e complessivamente il 15% nello studio introspedaliera, perciò una malattia assolutamente grave, come le nostre emoculture che devono essere eseguite entro un'ora e somministrare immediatamente l'antibiotico in contemporanea, avviene nel 76% dei casi che sono dati in linea con tutta la letteratura. La parte finale dello studio interessava anche un aspetto economico. La sepsi costa davvero tanto, perché la gestione della sepsi costa almeno tre volte un paziente ricoverato per un'altra patologia nel reparto di medicina, circa 11.500 euro, ma il confronto soprattutto deve essere fatto con le terapie intensive. La gestione della sepsi nella terapia intensiva costa il doppio, circa 22.000 euro, perciò in un momento di appropriatezza e di risorse economiche contingentate è assolutamente importante avere un'organizzazione tale che possa permettere una cura corretta della sepsi nel reparto di medicina interna. Grazie a tutti!